Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato Tg. Partiamo dalla cronaca. Rapinano una donna, un giovane interviene, blocca uno dei due banditi e la polizia poi è riuscita a arrestare il secondo. Sentiamo Nadia Tarantino. Hanno aggredito e rapinato una donna ma la fuga è durata poco perché un passante che ha assistito alla scena non si è lasciato intimorire e si è messo all'inseguimento dei due malviventi riuscendo a bloccarne uno. È successo ieri verso le 20 in via dei Tintori a due passi da Piazza Duomo. Sul posto è intervenuta la polizia. In manette sono finiti due pregiudicati, un fiorentino di 51 anni e un pistoiese di 38. La vittima, una 63enne residente a Firenze, è stata prima spintonata e poi derubata del borsello. Le sue grida hanno richiamato l'attenzione del passante, un 25enne che non ci ha pensato due volte e ha affrontato i malviventi bloccandone uno mentre il complice è riuscito a scappare ma ha fatto poca strada perché la polizia lo ha rintracciato e fermato in via Cairoli dove ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta. I due sono accusati di rapina aggravata in concorso. La donna rapinata è stata soccorsa da un'ambulanza. I sanitari le hanno medicato una contusione e una escoriazione. Ne avrà per sette giorni. Danni e disagi a causa del forte vento che da stanotte sta imperversando su tutta la città e la provincia. Una quarantina alle chiamate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco con le squadre impegnate sulle varie emergenze, in particolare per la caduta di alberi e rami e l'abbattimento di quasi tutti i tabelloni elettorali. In Viale della Repubblica i pannelli sono caduti sul marciapiede, solo per fortuna non hanno investito nessun pedone. Tabelloni giù anche in via Curtatone, a Figline e all'interno dei giardini della stazione. A questo proposito da registrare la dura nota polemica dei Cinque Stelle, i cartelloni delle tribune elettorali dicono non erano correttamente puntellati. Potevano colpire chi passava delinque al momento. Lavori fatti male, nessun controllo. Caduti anche alcuni alberi, in particolare in Viale Marconi e in Via Ciulli. Fortunatamente anche in questi casi non ci sono persone o auto coinvolte. E altri disagi provocati dalle coperture volate via da alcuni capannoni. Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto verso le 13 di oggi in Via Cavura, all'altezza del centro Giovannini. Le ambulanze del 118 hanno soccorso una 37 anni e una donna di 42 anni, entrambe portate in ospedale in codice giallo. Per il rilievo è subito intervenuta una patuglia della municipale dal vicino comando. Ma quando è venuto fuori che una delle due donne coinvolte era un agente della municipale, allora è stata fatta intervenire la polizia stradale che ora dovrà ricostruire l'accaduto. Secondo quanto è emerso, uno dei due mezzi stava svoltando a sinistra quando si è scontrato con l'altra auto che invece procedeva in direzione di Piazza dei Macelli. Lasciamo la cronaca e parliamo del Giro d'Italia che ieri ha attraversato il Pratese e anche la città in tantissimi hanno scelto di scendere in strada per vedere da vicino i propri campioni. Ecco un pezzo che riepiloga i momenti più importanti di questo pomeriggio. Due lunghissime ali di folla in festa dalla Val di Bisenza al Ponte Lama a Prato hanno accompagnato il passaggio pratese della seconda tappa del 102esimo Giro d'Italia da Bologna a Fucecchio. Scroscio di applausi quando prima i otto fuggitivi e poi il gruppo hanno colorato di rosa la nostra provincia. Un passaggio fugace ma denso di emozioni per grandi e piccini. Una grande festa per la città che attendeva a questo momento da tre anni. La giornata di domenica e la fascia oraria e l'ora di pranzo hanno ridotto al minimo i disagi per la circolazione e favorito la partecipazione. Ti piace il ciclismo? Sì. È la prima volta che vedete il Giro? Sì. Nibali. È la prima volta e io come un amico tipo italiani. Qual è il tuo ciclista preferito? Tutti. Ma mi sembra una cosa normale, per una città come Prato sarebbe il minimo questo qui. È sempre una bella cosa. Ho sempre visto il ciclismo, ho sempre visto. Ai tempi di Pantani. Sì, sì. Il passaggio da Piazza Mercatale è scattato alle 14.25 dopo che la carovana ha distribuito cappelli, magliette, gadget e persino tatuaggi temporanei rigorosamente rosa. Tutto, abbiamo anche il tatuaggio, tutto. Siamo organizzati. Quest'anno ci siamo proprio, c'è una sensazione unica, bisogna provarla e bisogna provare anche quando passano i periodi, è una cosa unica. Ad attendere il passaggio della corsa in Piazza Mercatale, anche il sindaco Matteo Biffoni è soddisfatto del risultato. Noi non avevamo dubbi, Giro piace, piace il ciclismo, questo è l'evento più importante, era fra l'altro un'idea, una promessa, ci eravamo messi in testa già da un po' di tempo, l'idea di farla passare dal centro credo sia stata quella vincente. Tantissime persone, anche sul Montalbano, dove a Castra i ciclisti provenienti dall'Empolese dovevano affrontare il Gran Premio della Montagna. Il traguardo intermedio su una curva in salita ha reso questo tratto di strada il miglior punto panoramico del tratto pratese della tappa. Vedremo se il prossimo anno il giro tornerà nel pratese, andiamo avanti con il telegiornale, parliamo di cultura, in particolare di un'iniziativa della Diocesi, l'appello alla generosità dei pratesi per riaprire il Museo di San Domenico. È stato creato infatti un progetto di crowdfunding, sentiamo. La riapertura del Museo di San Domenico con la creazione di una sezione dedicata all'arte sacra passa anche da un progetto di crowdfunding. Questa mattina è stata presentata la campagna di raccolta fondi con sottoscrizioni online per acquistare le teche in cui esporre i preziosi oggetti di arte sacra sia di proprietà della Diocesi sia messi a disposizione da collezionisti privati. Sono opere che vanno dal 1200 al 1800, alcune di notevole qualità che in parte sono state esposte a Washington, a Rio de Janeiro, a Venaria perché non esporle a Prato, insomma. Sono destinate alla Diocesi se riusciamo a aprire il museo, quindi aiutateci a aprirlo e vediamo cosa riusciamo a mettere in piedi. Il primo step da raggiungere per proseguire con la raccolta fino al 18 giugno è posto a 6.000 euro. L'obiettivo è quasi centrato perché nei primi quattro giorni di raccolta sono già stati offerti oltre 4.300 euro. È possibile contribuire alla raccolta con piccole donazioni. Gli importi vanno da 5 euro fino a 1.000. Chiuso dal 2014, dopo aver ospitato per anni le opere della collezione civica in attesa del restauro di Palazzo Pretorio, il museo è stato oggetto di diversi interventi di ristrutturazione e adeguamento con l'obiettivo di farne un museo di Ocesano di arte sacra. Nel frattempo le risorse pubbliche a disposizione sono diminuite in modo così drastico da dover ridimensionare le proprie ambizioni affiancando al museo di pittura murale la sezione di arte sacra. È uno spazio che sicuramente è molto adatto alla didattica e ci piacerebbe aprirlo per i ragazzi, per le famiglie, per gli adulti. Quindi sono vari interventi, non l'idea iniziale di un grande museo ma un'idea progressiva di sviluppo di un museo. Per contribuire basta collegarsi alla piattaforma Eppela e cercare il progetto Riapriamo il Museo di San Domenico. Roberto Benigni e Francesco Nuti, due protagonisti indiscussi del cinema italiano, due talenti pratesi amatissimi in città fin dalle loro prime esibizioni avvenute negli anni 70. Il Comune di Prato, in collaborazione con la Casa del Cinema, ma rende omaggio ai due cineasti pratesi con due appuntamenti da non perdere curati e condotti dal giornalista Federico Berti, entrambi ad ingresso libero. Si comincia stasera alle 21.15 quando si festeggiano finalmente i 20 anni dalla notte degli Oscar che regalò tre statuette al film La vita è bella, capolavoro di Benigni che per l'occasione tornerà sul grande schermo del cinema terminale. A introdurre la visione della fortunata pellicola sarà ospite Amerigo Fontani che è stato uno degli attori del film che è entrato appunto nella storia del cinema fino a incassare oltre 230 milioni di dollari diventando il film italiano di maggior incasso nel mondo. Quindi l'appuntamento è per stasera. Ancora cultura con la presentazione della quarantesima edizione del Festival delle Colline. Sentiamo quali sono le novità di quest'anno da Barbara Becchimanzi. Quarantesimo compleanno per il Festival delle Colline, la tradizionale rassegna musicale che ogni luglio da ormai quattro decenni anima le colline pratesi. L'edizione numero XL sarà XL in tutti i sensi. Oltre agli artisti musicali ospitati, quest'anno il festival prevede anche la mostra fotografica 40 anni di colline, visitabile dal 14 giugno al 26 luglio presso le scuderie Medice di Poggio a Caiano. L'esposizione intende celebrare la lunga storia della manifestazione attraverso le foto, i video e le locandine delle rassegne del passato. Protagonisti dell'edizione 2019 saranno i cantanti James Eschies e Ben Otwell, i compositori Olivia Sellerio e Wim Mertens, ma soprattutto il cantautore italiano Fabio Concato. Il festival è in programma dal 3 al 25 luglio e coinvolgerà le location più suggestive del territorio, tra Poggio a Caiano, Prato e Carmignano. Lo spazio ex fabbrica a Prato ospiterà invece China Garden, con documentari, workshop e incontri dedicati alla comunità cinese, ma soprattutto l'esibizione di musicisti e cantanti asiatici. Quello che c'è da festeggiare maggiormente è che il festival di Rio Colline con grande fatica e quasi un miracolo riesce a garantire, a rimanere, avere l'identità forte che ha sempre avuto e non a perderla negli anni, come è successo ad altri festival, strizzando più l'occhio al pubblico e andando più in una linea mainstream. Noi riusciamo ancora a fare ricerca, a presentare artisti che non hanno palchi in altri festival e avere un grosso riscontro di pubblico comunque negli anni. Ci salutiamo con una notrizia triste, grave lutto nel mondo imprenditoriale per Confindustria Toscana Nord. È morto all'età di 50 anni Riccardo Bresci, titolare dell'azienda Enzo Bresci, una delle principali del distretto pratese nel settore dei coloranti tessili e socia da oltre 40 anni del sistema Confindustria, prima come Unione Industriale Pratese e poi con l'attuale assetto. Nell'Unione Bresci era stato molto attivo nella sua sezione di pertinenza, arrivando a essere uno dei rappresentanti delle imprese chimiche nel consiglio direttivo dell'associazione. Era l'ultima notizia, come vi dicevo, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.